Ricominciano i vlog settimanali in cui vi fate gli affari miei, video in cui vi dico quello che ho fatto, pensato, quello che ho imparato nel corso della settimana, sicuramente in ambito lavorativo ma anche per quanto riguarda questo ambito della crescita personale che è diventata un po' una parolaccia però insomma lo intendo nel modo più positivo del termine, cioè del come mi sto muovendo per migliorare me stesso, migliorare alcuni aspetti della mia vita e quindi anche per rispettare poi le tradizioni dei primissimi vlog faccio questo video subito dopo la sessione di allenamento. In realtà oggi è sabato quindi il vlog in teoria non è ancora iniziato ma volevo iniziare adesso perché ho il tempo di sedermi qui, di parlare un po' con voi, di introdurre la serie a chi magari non l'ha mai vista e di spiegare un po' il perché si è interrotta anche a chi seguivo questo vlog già prima. La versione breve è che pensavo di potermi prendere una settimana di pausa, specie perché ero in vacanza e quindi è quello che ho fatto e poi non ho più ricominciato. Questa è veramente la versione più semplice che posso dare che però racchiude in realtà la parte più importante, cioè potrei raccontarmi 3000 cose che a livello lavorativo è stato un periodo molto intenso, ci sono state tantissime cose da fare e lo è stato. Ma la verità è che ho perso l'abitudine, ho perso quella routine, ho perso magari anche un po' la spinta e quindi vi spiego un po' cosa ho imparato da questa esperienza. Ci sarà sicuramente un altro video sul canale in cui vi parlo proprio di cosa è successo quando ho smesso di tracciare quello che facevo su base giornaliera, su base settimanale perché voglio entrare più nel profondo di questo tema. Ma fondamentalmente come ho smesso di fare questi vlog ho smesso anche di tracciare giornalmente quello che facevo, quanto facevo esercizio e questo ha portato un po' a un deragliamento di tutta quella parte della mia vita. Quindi sarà anche interessante avere proprio una comparazione di un trimestre fatto tra virgolette bene, quello che vi ho documentato con i vlog, un trimestre fatto male e si spera il prossimo trimestre fatto bene. Ma un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che contrariamente a quanto si può pensare da quello che si vede su YouTube, io in realtà penso che negli ultimi tre mesi sono stato forse più contento rispetto ai tre mesi ancora precedenti. Questo perché l'approccio in cui non ci si prende cura del corpo, non si dà attenzione alle cose, non si tracciano le proprie abitudini, si perdono molte abitudini positive, è meglio? Ci stiamo ingannando? No, probabilmente non è così, diciamo che poi ognuno è diverso e come sappiamo gli studi sociali, gli studi di psicologia, di comportamento possono avere risultati completamente differenti per tremila motivi, è difficile dare scientificamente la risposta su cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare. Però ci sono anche tantissimi altri fattori, tantissime altre cose che vanno coltivate, che vanno sviluppate, che vanno fatte al di là di quello che io vi mostravo in video, che le persone vi mostrano in video, quello di cui parlano fondamentalmente white boys su YouTube, quindi esercizio fisico, corsa, lettura, mindset, grindset, eccetera, tutta sta roba. Ma in realtà anche nella vita di uno come me, che paradossalmente parla spesso di queste cose, di questi temi, tutto questo ha un peso più basso rispetto alla parte di relazioni personali con altri esseri umani, la nostra salute psicologica, come ci sentiamo con noi stessi, come ci sentiamo di noi stessi, potrebbero essere due cose diverse, almeno io le vedo come due cose diverse, poi non so se effettivamente è così. Gli psicologi in chat mi correggeranno, chiaramente c'è anche tutta la parte di carriera, perché poi nel mio caso, per esempio, quello che porto nei vlog, esula da quello che è il mio lavoro a tempo pieno, se vogliamo, quindi quello è un altro aspetto. Diciamo che è stata una realizzazione importante, questo non vuol dire che penso sia meglio non tracciare queste cose, penso sia meglio tralasciare l'esercizio fisico o altro. Semplicemente ho capito che intanto ci sono delle cose che hanno un impatto molto più grande, questo in realtà già lo sapevo, ma è sempre bene ricevere degli schiaffi morali e pratici per ricordarsi queste cose. Sicuramente sarà qualcosa che dovrò accomodare. Il secondo aspetto è che non sempre quello che faccio per migliorare magari è l'ottimo, quindi per esempio il modo migliore per allenarsi, se il proprio obiettivo è la longevità, è il modo X, io decido di fare Y, perché oltre ad avere quella componente di efficienza c'è anche una parte che mi piace, una parte che mi interessa, c'è anche un po' il fetish di tracciare, di migliorare. Quindi riflettere sul fatto che nonostante ci sono 3000 motivi per cui penso di starmi muovendo nella direzione migliore, nel modo migliore, perché magari mi informo, leggo, vedo studi, ci sono 3000 motivi, 3000 fattori per cui in realtà magari potrei ottenere lo stesso risultato, potrei ottenere di più facendo le cose in maniera diversa, magari anche facendo meno. La terza cosa che ho imparato è che questi vlog rappresentavano uno stress, tra virgolette, positivo. Era quel tipo di stress che sicuramente mi faceva dire, ok, devo fare questa cosa, devo occuparmi di questo video, erano dei task in più che si andavano ad aggiungere alla mia routine, ma erano dei task che in realtà generavano poco sentimento negativo, per cui non mi sentivo tanto in colpa nel dover registrare questi vlog, non erano qualcosa che a livello cognitivo mi pesava, riuscivo a farli in leggerezza, e il tempo che si è andato a liberare non facendo questi vlog, sicuramente un po' per questioni proprio fisiologiche è dovuto andare al lavoro, perché ripeto è stato un periodo molto intenso, però poi mi rendevo conto che c'erano altri momenti di tempo libero in cui prima, da gennaio a marzo, avrei potuto riflettere sul vlog, lavorare a video, e che invece era stato riempito da altro. Io in particolare sono una persona con veramente una facilità di interesse notevole, nel senso che qualsiasi tema X che appare sul mio radar ha la possibilità poi di diventare un focus giornaliero, settimanale, dove io faccio un dive incredibile su quel tema, e poi magari molto spesso l'interesse va scemando. Diciamo che il mio interesse è un po' un liquido, un liquido che ha una tensione superficiale che tende a delle cose comunque cognitivamente facili, ok? Quindi se io ho due ore di tempo libero in un giorno e non mi do delle linee guida, non ho una struttura, non ho delle cose che mi interessano da fare specifiche, allora so che quelle due ore potrebbero essere prese da l'interesse più randomico e molto spesso questo liquido, come l'acqua, questa tensione superficiale che gli dà la forma della goccia sul tavolo, il mio interesse invece tende a qualcosa che a livello cognitivo è molto, tra virgolette, facile. Cioè è più difficile che queste due ore di tempo vengano prese da deep dive tecnico sull'astrofisica, è più facile che vengano prese da deep dive su storie di astronauti, ok? Quindi sono delle cose che sicuramente sono interessanti, mi fa piacere farle, meglio che guardarsi il grande fratello per citare l'esempio di tutti gli esempi quando si parla di questa strana, forse non necessaria, gerarchia dei contenuti e degli interessi, però vabbè, questo è un tema per un altro video. Però è anche per questo che nella prima parte di questo vlog ho sviluppato il discorso del come vorresti il Tommaso a 30 anni, perché so che ho bisogno di darmi delle linee guida che poi possono cambiare, magari ho un interesse che nasce e che voglio aggiungere alla lista del Tommaso a 30 anni e quello va benissimo, però devo guidarmi in un certo senso, perché altrimenti mi ritrovo veramente con tantissime nozioni superficiali di cose che non mi interessano, di cose che semplicemente ho approfondito perché erano lì a portata di mano, non sono io a dettare i miei interessi, a dettare il mio tempo, ma è l'algoritmo di YouTube, è l'algoritmo di Instagram, è quello che passa in televisione, è quello che passa per la mia mente in quel millisecondo in cui guardo. Quindi no, voglio, devo cercare di essere più intenzionale, penso che i vlog siano un ottimo strumento per farlo perché io mi siedo qui settimanalmente, vi dico cos'è successo, cosa ho fatto, cosa è andato bene, cosa è andato male, me lo dite anche voi nei commenti, sono curioso magari di sapere questi ultimi tre mesi come sono stati visto che non ci siamo visti né sentiti e questo un po' mi forza a fare di più, a lavorare sulle cose che effettivamente ho deciso essere importanti per me. Ecco, un nuovo interesse può entrare ma ci deve essere un momento in cui io mi siedo su una sedia, penso e dico ok, questa cosa può entrare nel disegno di Tommaso a 30 anni e magari sono anche disposto a far uscire qualcos'altro che adesso non mi interessa più. Quindi questo deve essere l'approccio, intenzionalità, senza diventare troppo rigidi, però nonostante questo sembri uno stress, sembri fatica, so che è uno stress che per me è tendenzialmente positivo. Quindi vediamo questo nuovo trimestre di costanza, di vlog, di intenzionalità e poi faremo un resoconto finale. Questo era diciamo l'episodio di raccordo, a questo punto credo che inizierò un nuovo video per il vlog della settimana domani, domenica dai, facciamo con me gli americani che la settimana inizia domenica. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, mi scuso se sono usciti pochi video sul canale in questo periodo, vi ho spiegato già il motivo principale, ce ne sono tanti altri, però insomma quello veramente primario è che avendo perso l'abitudine di fare vlog, di caricare questi vlog, ho perso anche l'abitudine di lavorare sul resto. Questa è la verità, mi son detto che lo stress e il lavoro erano troppi per poter gestire anche questa cosa, in realtà forse il tempo l'avrei trovato, semplicemente è più difficile mettere in moto un qualcosa da zero rispetto semplicemente a continuare a spingere una palla che già sta rotolando, anzi un masso perché la palla anche la ferma, diciamo che tendenzialmente ce la fai. Però ecco, fare YouTube a volte sembra un po' un masso enorme perché hai 3.000 dubbi e 3.000 domande, questo video andrà bene, interesserà la gente, riuscirò a farlo, quanto tempo ci vorrà, le copertine, il titolo, bla bla bla. Se il masso sta già rotolando tu semplicemente gli corri dietro e provi a keep up, se invece questo masso è fermo devi cominciare a spingerlo molto spesso e dici sai che c'è chi me lo fa fare, torno settimana prossima, settimana prossima avrò la forza di spostarlo, invece non è così. Alla fine questo è diventato più un episodio zero, un episodio di raccordo del vlog, domani a questo punto credo inizierò il vero e proprio vlog settimanale, e vi ringrazio per avermi seguito, per essere tornati dopo che vi ho lasciato da soli per 3 mesi. Il mio obiettivo di questi prossimi vlog è di farli magari anche un po' più specifici su dei temi settimanali, in modo da non annoiarvi sempre con le stesse cose, ma anche continuare a tenermi accountable come YouTuber, come wannabe Tommaso da 30 anni e niente, come al solito rinnovo l'invito anche a condividere qui, se volete in questo spazio, delle cose che vi succedono su base settimanale, su base mensile, su pensieri che state sviluppando, e noi come al solito ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!